Nel corso delle festività natalizie appena trascorse, il compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania ha innalzato il livello di guardia, intensificando ulteriormente le misure di osservazione e vigilanza già predisposte, in ragione del maggior afflusso di viaggiatori, nell'ottica della salvaguardia dell'ordine della sicurezza pubblica e della regolarità del trasporto ferroviario, sia all'interno degli scali ferroviari, sia a bordo dei convogli, sono stati ulteriormente incrementati i controlli di sicurezza, attuati mediante dispositivi di ristringimento degli accessi, in corrispondenza di varchi presidiati, attraverso i quali le pattuglie della Polfer hanno potuto monitorare tutti i visitatori in transito nelle principali stazioni campane. Parallelamente è stata intensificata la presenza di polizotti della ferroviaria a bordo di treni critici e lungo le linee ferroviarie, perlustrate non soltanto con nato veicoli di servizio, ma anche con droni. Nell'ambito di detta attività anti-borseggio e anti-abusivismo, diretta di impedire che l'affollamento di visitatori potesse favorire il compimento di condotte illegali, sono stati segnalati amministrativamente 37 venditori abusivi, ai quali è stata sequestrata un'ingente quantità di merce varia offerte in vendita abusivamente. Nel periodo dal 18 dicembre al 6 gennaio sono stati assicurati 697 servizi di vigilanza in stazione, 147 pattuglie a bordo treno e 88 servizi anti-borseggio e lungo linea, a fronte dei quali sono stati conseguiti i seguenti risultati. 4 persone arrestate, circa 9.000 persone identificate, 3.948 bagagli a seguito di viaggiatori controllati, 286 treni scortati, 48 veicoli controllati, 13 persone deferite all'autorità giudiziaria, 62 sanzioni amministrative, 37 sequestri, 5 fotosegnalamenti e un minore rintracciato.